La Polizia di Stato di Palermo ha effettuato un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Grazie all'esperienza e alla conoscenza delle dinamiche criminali del quartiere, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza San Lorenzo hanno individuato un giovane palermitano pregiudicato del quartiere di Borgo Nuovo intento a fornirsi di droga. Durante un servizio di pattugliamento nel quartiere Zen, ad alta densità di spaccio, gli agenti in borghese hanno notato la presenza del giovane, sospettando che stesse cercando di rifornirsi di sostanze stupefacenti. Grazie alla loro prudenza e astuzia, hanno deciso di seguire i suoi spostamenti e di intervenire solo quando il giovane si è avvicinato a un motociclo con l'intenzione di allontanarsi dal quartiere. I poliziotti si sono qualificati e hanno sottoposto il giovane a controllo di polizia. Il suo atteggiamento nervoso e teso ha insospettito gli agenti, che hanno quindi deciso di procedere a un accertamento più approfondito. Durante la perquisizione personale è stato rinvenuto un involucro in plastica trasparente contenente sostanza stupefacente, probabilmente cocaina, oltre a una somma di denaro contante pari a circa 1.900 euro, che suddivisa in banconote di vario taglio erano state nascoste all'interno della tasca del pantalone. Il giovane è stato immediatamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio, mentre lo stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro. Il provvedimento è stato poi convalidato dalla locale autorità giudiziaria, che ha disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.